Prosegue la campagna di potenziamento della Nissa in vista del prossimo campionato di eccellenza. La dirigenza bianco scudata ha tesserato il difensore centrale spagnolo Samuel Hernández Medeiros, classe 1999, proveniente dalla quadra, terza divisione iberica. La trattativa con il giocatore, che arriva a Caltanissetta con referenze di tutto rispetto, piedi buoni, concretezza, propensione a spingersi in avanti, è stata portata a termine dal direttore sportivo Massimo Ferraro, che fa sapere, attraverso il canale social bianco scudato, di essere soddisfatto del lavoro svolto finora, annunciando i prossimi obiettivi, un centrocampista e un attaccante. Gradualmente si delinea il volto della nuova Nissa, che sarà allenata da Alessandro Settineri. Nei giorni scorsi chiuse le trattative anche con Pablo Lucero, altro difensore, e Bruno Bryan, attaccante.